La nuova questura si farà negli spazi della caserma militare in Viale della Liberazione. È stato questo l'annuncio a sorpresa che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha esternato sabato dopo la cosiddetta pedalata nella città che cambia. Un esperimento che ha replicato in bici la camminata di una settimana prima in una spedizione con i cittadini tra le opere pubbliche realizzate, in corso e finanziate. Pedalate che hanno spaziato laddove verrà arretrata la ferrovia e realizzata la nuova stazione oppure nella sempre più riqualificata via dell'Acquedotto o in una villa San Martino che ospiterà il centro federale del basket così come in una muraglia che cambia viabilità in vista del nuovo ospedale. Infine la nuova questura, una nuova bandierina sul sito peserochecambia.it Abbiamo chiuso un accordo davvero isperato tra Ministero della Difesa e voglio ringraziare ovviamente il Ministro Guerrini e il Generale Caccamo per la disponibilità l'Agenzia del Demagno, ovviamente la dottoressa del Verme ma in particolar modo il Direttore regionale che è stato davvero un motore instancabile ed è riuscito a trovare questa strada e poi ovviamente il Ministero degli Interni, il Prefetto, il Questore che hanno collaborato nella soluzione. Sono 13 milioni di euro in due palazzine adiacenti all'ospedale della caserma adiacente all'ospedale che verranno ovviamente isolate rispetto al resto della caserma che continua a vivere con ruoli sempre più importanti del Regimento Pavia e quindi è una grande operazione. Quando ero presente alla provincia lo proposi con forza e mi venne sbattuta la porta in faccia e oggi dopo tanti anni ce la facciamo grazie a una serie di interventi che siamo riusciti a fare una collaborazione tra soggetti e quindi la Questura nasce in centro come vogliono questori e sindacati di polizia ma in un luogo sulla viabilità vicino alla stazione, facile da raggiungere da parte di tutti in un luogo in un bene demaniale con 13 milioni di investimenti da parte dello Stato. Nelle prossime settimane firmeremo il protocollo, vorremmo firmarlo col Ministro Guerrini e quindi siamo in attesa di una sua data per una venuta a Pesaro perché vorremmo portarlo a inaugurare il parcheggio dedicato alle vittime di Nasseria a Baia Flaminia ovviamente a visitare il Regimento Pavia e poi a firmare questo protocollo fondamentale per la sicurezza della città.